Per mezza, ricerca e innovazione in Italia, perché secondo lei siamo a un punto così critico? Insomma la situazione è complessa perché questo è un paese che ha degli straordinari primati che non si percepiscono come tali perché manca, e questo è il vero buco nero, una politica di sistema. Questo è il paese che ha i più alti indici di consumo di digitale, è il più alto indice di permanenza su Facebook, ha il più alto indice di uso degli smartphone, ha il più alto indice di dimestichezza con le reti mobili, è il terzo paese per Google come beta testing dei suoi prodotti, per cui è considerato un paese tra virgolette d'avanguardia come consumo passivo, così è stato del resto nella televisione negli anni 80 o nella pubblicità negli anni 90. Mentre oggi invece manca un elemento di uso attivo di questa dimestichezza, cioè manca il fatto di declinare in termini organizzativi e culturali un processo innovativo che è discontinuo rispetto al passato e per cui implica dei cambiamenti radicali di modelli organizzativi, di modelli gestionali e dunque inevitabilmente anche di livelli di potere. Guardando al futuro, abbiamo un nuovo governo, siamo qui a Roma agli stati generali dell'innovazione, proprio il sottotitolo di queste due giornate, metti in agenda il futuro del paese, in agenda lei che cosa metterebbe? La prima considerazione che viene da fare, anche se mi rendo conto che è un po' amara, è per fortuna c'è la crisi, perché in questa situazione solo la crisi ci permette di rendere irreversibile una scelta appunto di discontinuità. Non si può andare più avanti come prima, se non perché lo decidiamo noi, perché ce lo impongono gli altri. A questo punto come imbucare una strada di rilancio? Noi abbiamo due terreni che sono tipicamente nostri, l'uno è la questione energetica, innovazione non è solo informatica, ma è tutta la riorganizzazione relazionale e produttiva, per cui fonti rinnovabili, fotovoltaico, sistemi urbani e sociali, web.3 per riorganizzare modelli di consumo e scambio di energia, la grid. Secondo, la questione dei linguaggi, transizione al digitale nei modelli audiovisivi, radio televisivi, il ruolo del servizio pubblico, la RAI, per riconquistare un ruolo attivo nello scambio di linguaggi, contenuti e format.